ciao marcio sconti dal pinguino ecco l'opzione simone se sente solo non sa che taglio corto un po' aspetta Robby aspetta un attimo questo video ti metto su youtube Robby come un bastardo ma non ci vediamo ma non cedeno uuuu vai nooo mamma mia no non ha capito che cosa fa nooo Robby Robby aspetta un attimo cosa